Appena terminata la prima cabina di regia, molto fruttuosa, argomenti interessanti, insomma l'argomento è unico, le università di si fanno, si faranno, è tutto pronto, sono state stabilite alcune cose importanti riguardo alcuni aspetti amministrativi e burocratici che sono stati chiariti in tutti i loro aspetti formali, ma il dato più importante è questo, grande unità, grande clima, Napoli protagonista, la campagna è protagonista, le università di sono un evento straordinario che questa città e questa regione non possono perdere.